Da tutti a tonte ben arrivati nell'ottava angolazione di Corso Italia. Vediamo quanta angolazione farà di Corso Italia, perché come avete visto diverse volte dai video è molto lunga, vedo un attimo quante, fin dove arrivo. Ah, qui se volete vedere diverse angolazioni, tipo uno premere il cannocchiale, portare il cannocchiale, introdurre la moneta nella fessura, premere il pulsante e ripetere in caso mancato funzionamento. Con questi telescopi si può vedere bene il mare o se vuoi vedere il tipo di bar. Comunque, praticamente qua si tocca anche al calcio, lì c'è proprio la palestra, diciamo, che si vede anche bene. Poi lì c'è un'altra via che adesso non mi ricordo come si chiama, in realtà non ci vado molto spesso qua, quindi non le so proprio tutte. Lì ci sono altre cose, lì qui accanto c'è il mare, non c'è l'azzurro, mi piace veramente tantissimo. Ah, ci sono anche dei lavori in Corso in più. Un minuto e 42, dopo devo interrompermi così ne faccio un'altra regolazione. Qui se volete mai giocare a calcio o rilassarvi, c'è un bar, quindi forse un giorno ci poteste andare, così mi raccontate un po' come ho fatto all'interno. Ah, scrivetemi qui sotto nei commenti, secondo voi perché parlo così male ogni tanto. Vi do un indizio, non è perché ho iniziato a parlare già tardi. E' tipo, non ho iniziato a parlare, tipo quando avevo sei anni, quindi perdonatemi se parlo male ogni tanto, ma non lo faccio apposta. Allora, io adesso vi lascio, vi parla un'altra angolazione, la nona angolazione, perché l'ho contato bene. Allora, per oggi è tutto, lasciate like, iscrivitevi al canale, se anche voi volete vedere la nona angolazione di Corso Italia. Anche se è vero che stanno fanno un po' le scatole. Allora, c'è tutto, l'Asia Bianchi. Out!